Fate almeno 30 minuti di esercizio 3 e 5 volte a settimana? Salve, sono Luigi Cratton, Vice Presidente Worldwide Product Marketing Herbalife. La domanda di questa settimana è molto importante per me. Parleremo di esercizio fisico adeguato perché l'uso di integratori non basta. Ogni momento è buono per uscire all'aperto, mettersi in forma e impegnarsi a seguire una vita sana. La quantità di esercizio dipende dai nostri impegni, ma io consiglio 3-5 volte la settimana. In genere, alterno i tipi di allenamento. Il primo giorno mi dedico alla parte superiore del corpo, il giorno dopo a quella inferiore. Non fa bene stressare troppo articolazioni, ossa, muscoli e legamenti, quindi non lavorate tutti i giorni su uno stesso gruppo di muscoli. Un'eccezione sono gli esercizi per i muscoli addominali, utili per rafforzare ogni giorno la zona lombo-addominale. Ecco alcuni consigli da tenere a mente quando fate esercizio. Primo il riscaldamento. Dedicare da 5 a 10 minuti al riscaldamento serve a preparare il corpo allo sforzo fisico. Camminate prima di fare jogging, fate jogging prima di correre e non dimenticate un po' di stretching. I muscoli caldi consentono una maggiore mobilità delle articolazioni e riducono le probabilità di infortuni. Secondo, variate. Vi è mai capitato di cominciare un programma di fitness e di abbandonarlo poco dopo? Un possibile motivo potrebbe essere la noia. Un programma che prevede attività diversificate, ad esempio camminata o bicicletta il mercoledì, e tennis o nuoto il venerdì o il sabato, vi aiuta a mantenere interesse e motivazione. Terzo, non dimenticate il ruolo importante che ha una nutrizione adeguata ai fini di uno stile di vita attivo. Cercate di mangiare almeno 7 porzioni al giorno di frutta e verdura per trarre il massimo beneficio dal vostro programma di fitness. Se fate regolare attività fisica è bene dare al corpo quello di cui ha bisogno. L'integratore proteico in polvere Herbalife è un ottimo integratore per sviluppare e mantenere la massa muscolare. 5 grammi di proteine di soia e di siero del latte e tutti i 9 aminoacidi essenziali in una formulazione in sapore e senza dolcificanti, che può essere aggiunta ai vostri cibi o semplicemente ad acqua, minestre e condimenti. Rivolgetevi al vostro personal coach del benessere, vi dirà come supportare la vostra attività fisica con i prodotti Herbalife. Termina qui la discussione di questa settimana. Vi ricordo che l'esercizio va fatto con intelligenza e regolarità. Grazie.